Un uomo è stato trovato morto in un pozzo alla periferia di Motola in via Allende, si tratta di un anziano di 83 anni, il fatto nella tarda serata di ieri il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto, sul posto i carabinieri della compagnia di Massafra e la polizia municipale. Si tratterebbe di un suicidio anche se proseguono le indagini per delineare la dinamica di quanto accaduto. E sempre per la cronaca un incendio si è appena sviluppato nella zona di San Basilio, stando ai primi rilievi sarebbe interessata una vasta zona boschiva, sul posto i vigili del fuoco e l'ispettorato forestale, le fiamme nei pressi del casello autostradale Motola-Castellaneta. Grazie a tutti.